E' tempo di derby per la Turris che domani alle 17.30 ospiterà lo stadio di Guori la Juve Stabia del neotecnico Sottil. I corallini sono reduci da due sconfitte consecutive che hanno leggermente minato alcune certezze di Mr. Caneo dopo un inizio di stagione forse anche al di sopra delle aspettative. La Turris potrà contare ancora sull'apporto del pubblico che nelle ultime settimane è già a corso numeroso a sostenere la squadra, a parte i gruppi organizzati che sembrano voler ancora prolungare la loro assenza sulle tribune dello stadio. Non ci saranno invece tifosi stabiesi. L'osservatorio sulle manifestazioni sportive ha infatti vietato la vendita dei biglietti per la partita nella città di Castellammare di Stabia per la nota rivalità tra le due tifoserie e quindi non ci sarà seguito di sostenitori per la squadra gialloblu. Per quanto riguarda il campo non ci sarà Franco tra i padroni di casa, già assente ad Andrea, e con ogni probabilità nemmeno Ghislandi, uscito malconcio dalla partita contro i pugliesi. Arbitro dell'incontro sarà il signor Panettella della sezione di Bari, assistenti Ravera di Lodi, la signora Martinelli di Seregno, quarto uomo Cherchi di Carbonia.